Musica Oggi all'Officina della Cultura Soveria Mannelli prende avvio l'ennesima tappa del tour del Superbonus il Superbonus 110% che permette la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico dell'abitazione di ognuno di noi una delle manovre probabilmente più importanti del governo messe in piedi che permette di fatto a ogni cittadino di riqualificare la propria casa gratis sto girando la Calabria per raccontare a tutti come funziona incontro quotidianamente imprenditori, cittadini, consulenti energetici, architetti un pochettino tutti quelli che sono gli esperti del settore e gli interessati al settore e sono tutti entusiasti di questa manovra una manovra che però ovviamente come tutte le leggi in prima fase ha bisogno di essere capita ecco perché sto girando e ho deciso di girarmi le piazze di tutta la Calabria perché è davvero uno strumento che potrà permettere alla Calabria di ripartire perché ci siamo sempre sentiti dire negli anni che se riparte l'edilizia in Italia riparte tutto ma nessuno ci ha mai detto come deve ripartire queste delizie bene, ci siamo fatti questa domanda anche noi e abbiamo trovato una risposta la risposta è questa riqualificare quello che è già esistente il super bonus 110% permette al cittadino di decidere se spendere una cifra per la riqualificazione della propria casa fino a un totale di 196 mila euro e addirittura guadagnarci il 10% ecco perché si chiama 110% perché lo Stato ti rimborsa il 100% della spesa più il 10% spalmato su 5 anni oppure decidere di non spendere un centesimo e cedere per intero il credito all'imprenditore che si occupa poi di fare il lavoro e a sua volta genera questo credito nei confronti dello Stato ecco che è una manovra che prende piede seguiteci perché stiamo davvero raccontando quello che potrebbe essere la svolta del paese grazie a tutti grazie a tutti